8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sigla. 8, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 21. Mi sono adoperato perché fossi eletto, cassette, registrazioni, Mimmo abbiamo lavorato per te, tutti i calabresi abbiamo lavorato per te, Ciro, conta questi soldi, devono essere 30, togli le 15, sono tutti da 100, tanto lo teniamo in funghi, quando lo vedo gli dico, vieni qui, mi sciaturo. Grazie. 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 Grazie.